dell'Inter. Sì, è un'opportunità importante, sappiamo dell'importanza della partita, però siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare, di quello che abbiamo preparato durante la settimana e quindi dobbiamo cercare di sfruttare le nostre qualità e togliere il risultato che cerchiamo. Anche perché Sarri vi ha ricordato che questo è un sassuolo e con le grandi fin qui non ha mai sbagliato partita. Sì, sì, assolutamente, siamo consapevoli dell'importanza della difficoltà della partita. Sappiamo che il sassuolo è una squadra che mette in difficoltà tutte le squadre perché è una squadra organizzata e quindi noi abbiamo preparato bene e cercheremo di fare il nostro meglio e uscire con il risultato. Un mese fa dopo la vittoria con l'Inter eravate i primi, poi però il Napoli perse a Bologna. Anche qui il mister vi ha chiesto di avere un'attenzione speciale. Sì, l'attenzione che dobbiamo avere sempre su tutte le partite perché a questi livelli tutte le partite sono importanti, non c'è una partita più importante dell'altra quindi oggi dobbiamo essere attenti come dovremo essere attenti nelle prossime partite.